Due anni dopo la chiusura del viadotto Puleto, che di fatto spezzò in due l'Italia, ancora manca una viabilità alternativa alla E45 e così si accende la rabbia degli industriali. Era infatti il 16 gennaio 2019 quando la superstrada fu chiusa in entrambe le direzioni, nel tratto Val Savignone-Canili, per le criticità estreme riscontrate sul viadotto, vicenda sulla quale è attualmente pendente un procedimento penale per omessa manutenzione. Confindustria Toscana Sud parlò allora di disastro annunciato e della necessità di garantire subito collegamenti alternativi, ripristinando la ex statale Tiberina Trebis. Ed adesso Giovanni Sassolini, presidente del gruppo imprenditori Valtiberina di Confindustria, torna sull'argomento. La situazione che oggi si presenta nel tratto della E45 tra Pieve e Santo Stefano e la Romagna è positiva, commenta se si guarda all'avvio degli investimenti di manutenzione straordinaria, ma continua a rimanere estremamente problematica per la presenza di cinque cantieri con deviazione del traffico su carreggiato opposta e la chiusura parziale dello svincolo di Pieve e Santo Stefano Sud. Consideriamo inoltre che siamo ormai giunti alla stagione invernale e nel caso si dovessero verificare emergenze, la situazione diventerebbe ancora più critica, per questo diventa sempre più urgente il ripristino della vecchia Tiberina Trebis. Nel 2019 prosegue e è intervenuto anche un accordo tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Comune di Pieve e Santo Stefano per un progetto di 2,2 milioni di euro per la sistemazione del tratto e la successiva statalizzazione della strada. L'appalto dei lavori, previsto entro il 2020, non sembra però più possibile poiché la revisione progettuale di Anas ha evidenziato un peggioramento delle condizioni stradali e di conseguenza maggiori costi per i lavori da eseguire. Il cammino dunque è ancora lungo ed è evidente che senza stanziamenti aggiuntivi la completa riattivazione della Tiberina Trebis risulta di fatto impossibile, conclude Sassolini. Da qui l'appello a politici, amministrazioni ed istituzioni affinché ciascuno si attivi rapidamente per risolvere una situazione di stallo che sta diventando sempre più grave e che sta provocando un pericoloso e progressivo isolamento della Valtiberina.